Invito a cena. Una volta di essere regista eri un razzista, una feccia della comunità. Ma io facevo un banchetto, in corso a Zanardelli, passano due in bicicletta e mi sputano addosso. Mi sono rimasto di me e dico, ma scusa cosa ti ho fatto? Allora ho preparato la mia valice, ho preso il mio treno, 1700 km. Palermo-Briscia. Palermo-Briscia. Che è la differenza di Palermo-Briscia? Certo, come sei partito dal Marocco in Italia. Ho cominciato ad arrivare la roba cinese, tutta la paletteria cinese. Ci ho pensato su un po', dico bene, chiudo la produzione e compro in Cina. Qua qualcuno dice, noi siamo celtici. e la Lombardia, il Veneto sono sempre stati terra di conquista c'è un miscuglio di un bastardito alla razza però probabilmente sempre razze di nordiche che hanno un concetto più diverso dalla vita delle razze del sud mentre al sud la vita è più godereccia, al nord ci hanno la mentalità del lavoro, anche perché il freddo porta a lavorare grazie a Dianco la mia famiglia non abbiamo comunisti dopo mi è venuto in mente a fare questo tipo di commercio di carne per gli musulmani l'immigrato urla con i figli, con la moglie per cui dovrebbero cambiare abitudini gli immigrati diventare un po' più tranquilli ma siccome la loro natura è così di mangiare odori di roba speziata odori forti quasi pronto ancora 5 minuti e possiamo mangiare e possiamo mangiare odori di roba speziata di roba speziata di roba speziata